Torneo nazionale Gigino Maturi, una competizione per futuri policlasse. Nata nel 2011 per ricordare la figura del dirigente sportivo Gigino Maturi, la manifestazione, organizzata da Alessandro Vitagliano con la collaborazione di Emiliano Branca, si svolge tutti gli anni nel mese di giugno e coinvolge diverse classi giovanili, da piccoli amici fino agli sordienti. Il torneo, riconosciuto ufficialmente dalla FGC, vedrà partecipare nel 2015 ben 60 società e 130 squadre, che si daranno battaglia nelle 5 diverse categorie. Le società che prendono parte al torneo sono scelte dall'organizzazione in base a parametri di prestigio e competitività espressi nel panorama calcistico nazionale a livello giovanile e tra queste ve ne sono alcune professionistiche. Ad aver preso parte nelle scorse edizioni a questo importante evento sono state tra le altre la Roma, l'Ascoli, il Benevento, la Versa Normanna, mentre quest'anno hanno già confermato la loro partecipazione Lazio, Frosinone, Latina, Avellino, Juve Stabia, Lupa Roma e Salernitana. Sin dalla sua nascita, il memore al girino Maturi è stato e continua a essere un'importante vetrina per le giovani promesse calcistiche. Oltre 250 piccoli giocatori, infatti, dopo aver preso parte a questo torneo, sono entrati nei settori giovanili di squadre professionistiche. Di grande impatto è anche l'indotto creato dall'evento. Nell'arco delle quattro settimane del torneo, che dell'edizione 2015 avrà inizio il 29 maggio e terminerà il 28 giugno, è stimato un afflusso di circa 20.000 persone. La visibilità del memore al girino Maturi è garantita inoltre sui principali quotidiani sportivi, cartacei ed online della provincia di Frosinone e dalla fornitura di un servizio esclusivo altamente innovativo e professionale. Lo staff di Mondo Futsal dà infatti la possibilità a tutti coloro che vorranno conservare un ricordo della manifestazione, di poter avere DVD personalizzati di tutte le partite in programma, con riprese effettuate da telecamere full HD e commentate da un giornalista iscritto all'albo e dall'esperienza pluriennale nel settore sportivo. Un altro importante canale di visibilità del torneo è costituito dalla pagina ufficiale Facebook che vanta al momento oltre 1.200 iscritti e dove è possibile trovare gli aggiornamenti in tempo reale sulla manifestazione. Torneo nazionale Gigino Maturi, il palcoscenico che trasforma la giovane promessa in futuro campione.